A domenica live, alla presenza della madre di Simone Barbato, si discute la sfera sessuale del celebre Mimo. La conduttrice Barbara D'Orso fa sapere nemmeno troppo velatamente che il comico, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, avrebbe raccontato di essere arrivato vergine a 36 anni. Conferma la madre, pur senza entrare nei dettagli. Non ha mai portato una fidanzata a casa. Pare, però, che al momento abbia sviluppato una cotta per Elena Morali che risulta essere già fidanzata con Gianluca Fubelli, il famoso scintilla di Colorado. Fubelli non si scompone nemmeno di fronte alle insinuazioni dello studio. L'uomo è convinto che la fidanzata non nutra alcun interesse nei confronti di Simone che considererebbe esclusivamente un amico. Pungolato, però, ammette di essere pronto ad affrontare tutto ciò che verrà. Dovremo sposarci ad aprile 2018, ma non mi fascio la testa prima di rompermela. Nella vita può sempre accadere ma, al momento, non sono preoccupato. Ho incontrato con lei fino a 2019. Elena Morali e Bianca Azei hanno avuto uno scontro nel corso dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi a proposito dei rispettivi cachet. Pare che l'ex compagna di Max Biaggi abbia rivelato agli altri concorrenti di essere stata pagata più degli altri. Indiretta, la Morali le ha rifatto il verso. Hai detto che se fossi stata pagata come noi te ne saresti stata a casa. Fu Belli ha difeso la compagna a tal proposito, rivelando che Elena stava citando Bianca e che quella frase non è farina del suo sacco. Luxuria in studio si è chiesta. Litigavano per il cachet, sarà strapagata la Azei. Chi se ne frega.